Al via oggi la seconda giornata del campionato nazionale studentesco di salvamento, questa mattina sono proseguite sulla spiaggia della Venera Azzurra le prove di salvamento, domani la finalissima. Qual è il bilancio? Bilancio del tutto positivo. Stamattina siamo stati anche fortunati ad avere una giornata favorevole, al contrario di come erano le previsioni. I ragazzi si sono comportati benissimo. Oggi abbiamo fatto nella seconda giornata una manifestazione a livello nazionale, quindi hanno partecipato oltre che i nostri ragazzi di Spezia, ragazzi provenienti dalla regione Liguria, ma anche da altre parti d'Italia. Ricordiamo la rappresentativa di Como, di Erba, di Roma, avevamo rappresentanti di Rappallo e di Camogli. Prima volta l'ERIC perché a questo trofeo nazionale studentesco di salvamento partecipano studenti provenienti da tutta Italia. Com'è andata questa esperienza fino adesso? Per ora bene, sono anche arrivata in finale, domani si terrà. Noi penso che è andata bene, comunque è la prima volta che lo facciamo, quindi siamo riusciti a passare per domani, passano i primi 12, quindi è andata bene. Mare, sole, aria aperta, quanto è importante che la scuola, oltre alle materie tradizionali, faccia queste iniziative in cui vengono valorizzati dei valori come la solidarietà, il volontariato e l'altruismo? Ma questi incontri portano socialità in tutte le scuole dove si impara molto. Questa esperienza è servita comunque a tutte le scuole, a tutti gli alunni, all'interno anche per creare nuove amicizie e anche per imparare a conoscere nuove persone. Quindi ad esempio abbiamo anche iniziato a fare amicizia con persone di altre città e niente, comunque è un'esperienza che ci serve a noi anche per il futuro, per imparare a aiutare le persone. Comunque è un corso di salvamento, quindi ci aiuta appunto a aiutare le persone e anche rendere comunque le nostre spiagge un posto più sicuro dove noi le aiutiamo. Questo pomeriggio invece è esercitazione di sicurezza in mare. I ragazzi si sono imbarcati su un battello della cooperativa Navigazione Golfo dei Poeti, è stato simulato un guasto e si sono testate le procedure di sicurezza. Attraverso una zattera i ragazzi hanno raggiunto di nuovo la spiaggia della Venera Azzurra. Un'esercitazione molto complessa, infatti sono stati coinvolti tutte le forze preposte alla sicurezza. L'appuntamento è domani per la conclusione di queste importanti tre giorni, domani la finalissima che decryterà la vincitrice assoluta di questi campionati nazionali studenteschi di salvamento.